Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti nel commento, nell'analisi della partita nelle pagelle di Hellas Verona-Roma L'anticipo serale del sabato che ho guardato, ero curioso di rivedere l'Hellas dopo la vittoria in quel di Empoli in una partita equilibrata, decisa dagli episodi, insomma volevo rivedere questo Hellas, l'esordio in casa di questo campionato come ben sapete, insomma chi segue il mio canale non sono particolarmente attratto dalle partite che vedono coinvolta la Roma però mi aspettavo una partita un pochino più equilibrata rispetto a quanto non sarebbe stata Milan-Torino stavolta ho avuto ragione, quindi mi sono visto la partita che è stata una partita tutto sommato divertente che partita è stata? Allora, una partita che come nel caso di Frosinone-Atalanta perché quella è stata l'altra partita che ho visto del sabato, è stata indirizzata subito in favore dei padroni di casa con un gol nei primi minuti grazie a un paperone del portiere quindi Verona che trova nuovamente il gol grazie al portiere avversario che la combina grossa però è bella comunque la ripartenza perché fanno un ottimo lavoro un gonge e un glà che gestiscono bene il pallone nella zona centro-sinistra del campo per poi allargare sulla destra dove arriva Terracciano che calcia un tiro abbastanza telefonato Rui Patricio sceglie, prova a fermare il pallone, a bloccare il pallone però gli scivola dalle mani e si avventa Duda sulla respinta e trova il gol dell'1-0 il vantaggio dell'Ellas però francamente non è che demoralizza la Roma che anzi prende il pallino del gioco in mano c'è l'episodio della munizione di Dybala per la simulazione allora piccola parentesi su questo fatto per me la munizione tutto sommato ci può stare perché il contatto tra Dybala e Duric effettivamente c'è ma è lieve queste cadute tutte plastiche con le mani sopra la schiena come se qualcuno ti avesse sparato sono ridicole cioè anche se puoi perdere l'equilibrio ci sta che tu cada è proprio il tipo di caduta che fa credere che tu vuoi simulare quindi secondo me l'arbitro viene indotto al giallo e ci può stare c'è la traversa su calcio d'angolo di Cristante che svetta su Fonoruncio che non lo tiene un buon angolo battuto da Pellegrini Cristante colpisce appunto la traversa poi c'è quella super giocata di Pellegrini tra Ien e Magnani dove riesce con una finta di corpo e spalla la porta a liberarsi però poi calcia al lato però la giocata è sontuosa c'è quella triangolazione interessante tra Dybala e Cristante dove Cristante dal panone leggermente lungo Dybala quindi Montipò riesce ad uscire e coprire lo specchio della porta c'è il salvataggio di Magnani sul tiro di Zalewski dopo che Cristante se ne aveva fatto una bella giocata sulla destra aveva messo un bel pallone in aria la difesa dell'Ellas si era schiacciata portata su da Belotti e aveva liberato spazio per il rimorchio di Zalewski che ha calciato a botta sicura è stato bravo Magnani a trovarsi in traiettoria a deviare in calcio d'angolo poi c'è stato il rigore annullato dal VAR giustamente quello è un abbaglio del direttore di gara Sacchi mi sembra che visto la posizione del corpo di Onglada dietro puoi pensare che l'abbia presa di mano è un errore che ci sta nella valutazione di campo giustamente il VAR interviene il rigore viene tolto e ci mancherebbe a fine primo tempo quando insomma il risultato sembra poter andare tranquillamente sull'1-0 arriva invece il gol del 2-0 una follia assoluta della Roma che praticamente è in 10 nella metà campo avversaria e concede il contropiede al Verona un contropiede semplice perché poi alla fine Duda lancia in avanti tanto ha 50 metri di campo per poter lanciare non è che deve fare un lancio particolarmente calibrato cioè basta e butti la palla in avanti tanto un gongia arriva prima arriva prima uno perché è lanciato verso l'area avversaria due perché è più veloce dei difensori della Roma tra l'altro Smalling fa una lettura senza senso perché se vi andate a rivedere il replay fa il passo in avanti per mettere in fuorigioco un gongia peccato che sei nella metà campo avversaria di tipo 6 metri quindi non c'è il fuorigioco un errore di lettura sbagliato gongia ovviamente partendo dall'esterno dovendo accentrarsi i difensori della Roma riescono a recuperarla arriva proprio Smalling che però poi sbaglia nell'uno contro uno perché gongia neanche tocca il pallone fa proprio soltanto finte di corpo ma se lo sposta sul suo piede e Smalling gli lascia la conclusione da quella posizione di campo è ovvio che gongia va sul sinistro uno perché ha il suo piede due perché cerca lo spazio per calciare in porta fosse andato sul destro avrebbe fatto un dribbling inaspettato invece fa quello che tutti ci si aspettava non capisco perché Smalling non lo abbia chiuso al che gongia calcia bene verso la porta e trova il gol del 2-0 si va negli spogliatoi quindi con questo risultato Mourinho nell'intervallo cambia tre giocatori entrano Spinazzola, Sharawi e Awar tra l'altro francamente l'esclusione di Awar dall'11 titolare mi ha lasciato un po' perplesso perché aveva fatto ho letto, aveva fatto un buon esordio contro la Salernitana ma poi per far giocare Paredes che è un cadavere sinceramente non ho capito il senso di questa scelta ma anche Sharawi insomma un giocatore che secondo me ora è rientrato di bala però un giocatore che può dare tanto infatti questo triplo cambio ha aumentato la qualità del gioco della Roma davanti e Sharawi va subito vicino al gol con un tiro al volo di destra dove Montipò alza sopra la traversa una buona sempre su calcio piazzato che sono le situazioni più pericolose per la Roma ovviamente questo lo era anche l'anno scorso c'è il colpo di testa di Mancini sempre su calcio piazzato dove Montipò devia al lato una parata semplice in realtà ma c'era il pericolo che arrivasse un giocatore della Roma per il tap-in quindi è stato bravo a deviare lateralmente poi è arrivato il gol del 2-1 della Roma una non-azione nel senso un tiraccio da fuori sbilenco su cui Belotti è bravo ad arpionare e poi Montipò fa una papera perché comunque Montipò esce e non ha senso che esca perché è una palla su cui Belotti non può fare niente quindi puoi anche lasciargliela quindi sbaglia la decisione dell'uscita e poi esce a vuoto anzi tira un cazzotto a Belotti probabilmente se non ci fosse stato il gol sarebbe stato rigore e Belotti anticipa Montipò la butta verso il centro c'è Awar che spinge a porta vuota e questo è il 2-1 poi c'è l'episodio da Var per il rosso di Ien che Belotti gli va via su una palla verticale Ien spende diciamo il fallo sperando di cavarsela con un giallo su una lettura dell'arbitro del Var che potesse considerare il rientro del terzino mi sembra fosse Doig come una valutazione diciamo di campo che non fosse più ultimo uomo gli va male giustamente secondo me perché il lancio per Belotti era preciso Belotti aveva il controllo palla era verso la porta quindi è giusta l'espulsione secondo me per Ien però qui ci tengo a precisare poi lo sottolineerò anche in sede di Pagella Ien fa bene a buttare giù il giocatore cioè è meglio farsi buttare fuori tanto era tipo l'ottantacinquesimo poi fermo in stando e poi sono stati dai 13 minuti reupero tra un cazzo e un altro però fai bene a buttarlo giù perché lì se Belotti va verso la porta c'è un alto rischio che segni che faccia gol quindi si va sul 2-2 cambia l'inerzia della gara la Roma ha più energie e rischi di perderla invece te butti giù il giocatore ti fai buttare fuori ma tanto la gara si è impostata nella difesa quindi mal che vada poi il tuo allenatore mette dentro un difensore in più e ti affidi diciamo alla fase difensiva dei compagni però intanto mantieni la partita sul 2-1 ecco la fregatura sarebbe stata se Pellegrini avesse buttato dentro quella punizione perché sulla punizione successiva a questo fallo Pellegrini tira fuori dal cilindro un capolavoro tecnico una punizione perfetta che colpisce la traversa dopo la traversa sbatte sulla schiena di Montipo ma esce cioè proprio una situazione molto particolare sfortunata ovviamente per la Roma che ha colpito due pali in questa partita due traverse e poi la partita diciamo che si scivola verso la fine anche perché nemmeno ti recupero il Verona perde tanto tempo insomma sicuramente sicuramente concede poco alla Roma quindi Verona che porta a casa tre punti tre punti importanti come lo erano quelli di Empoli che non devono secondo me illudere però la tifoseria certo che la squadra in costruzione si è visto Serdar che probabilmente giocherà tante partite quest'anno però ha giocato soltanto uno spezzone perché è appena arrivato Folloruncio è stato schierato in un ruolo un pochino più adatto a lui rispetto alla partita di Empoli dove fu schierato falso 9 e ancora non è rientrato Lazovic Saponara ancora pochi minuti sulle gambe cioè ci sono ancora si è rivisto Ien che non so se rimarrà a Verona però intanto si è rivisto si è rivisto Faraoni che era squalificato alla prima cioè la squadra comunque ancora deve far vedere il meglio che può dare queste prime due giornate sono un miracolo perché tu hai strappato 6 punti su 6 in uno scontro diretto in una partita contro una big giocando male avendo episodi favorevoli che praticamente hai vinto per due papere dei portieri però sono 6 punti pesantissimi perché sono 6 punti raccolti in una condizione stagionale non ottimale cioè il Verona secondo me era nei piani che iniziasse male la stagione nelle prime tre partite poi dopo la sosta per le nazionali il 16 settembre il 15 settembre quando è che inizia il campionato cominciasse a macinare invece il fatto di aver raccolto 6 punti nelle prime due partite in queste condizioni è veramente oro colato quindi il Verona mette in cascina 6 punti che sono tanti per una squadra che comunque lotta per la salvezza perché ci sono squadre che 6 punti li fanno in 7-8 partite quindi comunque ha già messo del bel fieno in cascina è una squadra forte in contropiede diciamo che l'antifona non è che sia cambiata rispetto all'anno scorso con Zaffaroni cioè il modulo è lo stesso 3-4-2-1 per ora il modulo è quello e la squadra comunque gioca di catenacce e contropiede di mazzate a centro campo cioè la squadra gioca uguale all'anno scorso sostanzialmente però intanto è produttivo così come lo era l'anno scorso quando arrivò Zaffaroni sulla panchina del Verona con un calcio molto rustico però riuscì ad avere una media punti elevata che ha portato poi il Verona a recuperare il margine perso nel giorno d'andata e a salvarsi clamorosamente quest'anno la stagione diciamo ha proseguito come era finita cioè stesso modulo stesso modo di approcciare le partite stessi risultati perché poi alla fine con pochi gol subiti con con cinismo estremo la squadra porta a casa i punti quindi il Verona ha iniziato benissimo la stagione ampiamente oltre le aspettative secondo me perché nessuno si poteva aspettare due vittorie nei primi due in queste condizioni di rosa e Roma che sfortunata indubbiamente sfortunata perché comunque ha avuto l'infortunio di Dybala che comunque lo mette in conto perché si fa male spesso c'è stato quel bruttissimo contrasto tra Zalewski e Duda a me ha fatto impressione il insomma il replay di Zalewski che tende la mano a Duda con l'espressione proprio completamente disorientata cioè non è svenuto ma era di fuori completamente dopo la botta mi ha fatto impressione l'espressione di Zalewski proprio una brutta scena è stata c'è stato anche quel contrasto che comunque ha costretto Zalewski a uscire dal campo quindi ci sono stati gli infortuni però una partita che ti è girata male perché poi alla fine la papera del portiere le due traverse cioè sei stato sfortunato sicuramente meritavi qualcosa di più della sconfitta sicuramente la vittoria del Verona non è meritata per quello mostrato in campo ai punti diciamo così però una Roma che che ha iniziato male la stagione la partita della sanità non l'ho vista però un punto in due partite contro due squadre che comunque lottano per salvarsi è un bruttissimo inizio ho visto comunque una squadra che è fragile cioè veramente fra il secondo gol è roba veramente grave perché tu non puoi concedere un contropiede a 30 secondi dalla fine del primo tempo così grossolano così clamoroso poi se si va a vedere comunque le opportunità la stragrande maggioranza delle occasioni dal gol sono sul calcio piazzato cioè la squadra comunque avendo comunque giocatori di qualità deve creare un pochino più di gioco anche senza le punizioni calci d'angolo che sono un'arma importante che possono regalare punti in partite complesse questo indubbiamente bene che la Roma sappia preparare queste situazioni da calcio da fermo però non può affidarsi sempre solo a queste sfortuna le due traverse sì ma sono arrivate tutte e due una sul calcio d'angolo e una sul punizione cioè sua azione la Roma non è che abbia creato tantissimo mentre invece il Verona è una squadra che concede anche all'Empoli aveva concesso tanto quindi per quanto mi riguarda è una Roma completamente da rivedere l'arrivo di Asmun e l'eventuale arrivo di Lukaku non risolvono il problema secondo me a parte perché il portiere è sempre il solito ed è comunque il peggior portiere la serie ansia ma Terracciano quindi forse anche peggio di Terracciano quindi si sta veramente parlando di un punto debole grave che è rimasto da poi se non c'è una ragnatela di passaggi un gioco che possa poi servire il centroavanti è inutile avere il centroavanti forte fermo restando che a me Lukaku nemmeno piace però è un giocatore da catenaccio e contropiede Lukaku in quel sistema di gioco si esalta e quindi con Mourinho può anche far bene perché la Roma così imposta le partite catenaccio e contropiede che quando giochi contro un'altra squadra e ti catenaccia o ci si guarda nelle palle dell'occhi oppure bisogna cambiare un pochino no un po' musica Verona ha trovato il vantaggio subito una papera del portiere e giustamente ha impostato la partita in quel modo fermo restando che secondo me l'avrebbe impostata anche sul risultato di parità però giustamente ha impostato la partita in quel modo e tu non hai trovato una contromisura se non quella di affidarti a calci piazzati quindi una Roma brutta bocciata un Verona che raccoglie il massimo col minimo sforzo però c'è qualche calciatore e ci arriveremo adesso con le pagelle che mi ha sorpreso per il rendimento c'è qualche calciatore che secondo me è partito con delle considerazioni basse in questo inizio di stagione ma invece può dare qualcosa di più e quindi secondo me un Verona che vi dico la verità io quando fino a una settimana fa quando è iniziato il campionato ovviamente il mercato non è chiuso però il Verona lo vedevo molto male per me il Verona con Baroni in panchina che non è che faccia giocare bene a calcio le sue squadre costretto a dover cambiare modulo perché comunque la squadra non è impostata bene per fare il 4-3-3 che penso sia il suo modulo di riferimento con dei calciatori che non sono cioè non ti garantiscono un rendimento altissimo con le possibili partenze di Doig e Dien dopo la cessione folle di Sulemana dopo la cessione di Tames che comunque era un giocatore che dava equilibrio anche se l'ultima stagione aveva fatto schifo cioè secondo me Verona era una candidatissima alla retrocessione sti 6 punti cambiano è un po' la cosa che per quanto possano esserne arrivati in maniera fortunosa però sono 6 punti pesano le altre squadre 6 punti li devono fare e non è detto che li facciano per cui attenzione perché il Verona sta mettendo fieno in cascina e poi quando rientreranno i giocatori forti veramente quando arriveranno dal mercato i giocatori forti veramente è una squadra che può veramente fare anche un filotto importante quindi la difesa funziona e quindi per quanto mi riguarda è un Verona che promette bene poi sono due partite bisognerà comunque vedere bene andiamo alle pagelle delle due squadre cominciamo come sempre dalla squadra di casa quindi ellas e montipò sono costretti a dargli 6 meno perché è stato attento sul colpo di testa i mancini sul tiro di esciarawi insomma però l'uscita a vuoto anzi diamogli 5 e mezzo l'uscita a vuoto è veramente brutta è brutta perché è brutta l'esecuzione ma è sbagliata proprio la scelta cioè e poi poco dopo ha fatto quell'errore raccogliendo il pallone che gli è scivolato che lì rischi anche se trovi un arbitro pignolo che magari dica hai perso il possesso non la puoi riprendere con le mani cioè insicuro molto insicuro 5 e mezzo per Montipò non mi è piaciuto linea difensiva Davidovic 7 Davidovic 7 era stato il migliore nella linea difensiva già contro l'Empoli e ieri veramente forte bravo bravo nel gioco aereo bravo negli anticipi è è stato bravo anche furbo in alcuni contrasti a farsi fare fallo cioè veramente un rendimento alto di un giocatore molto sottovalutato che tra l'altro ha le qualità per poter fare anche il mediano all'occorrenza ed è una soluzione che secondo me vedremo di qui a fine anno nel Verona a meno che non arrivino tanti calciatori in quel reparto quindi veramente bella prestazione da 7 per me Davidovic Ien ha fatto un partitone ha fatto un partitone diciamo che l'arbitro è stato molto generoso perché un giallo minimo se lo meritava ha fatto delle trattenute ha fatto dei falli tattici che secondo me almeno uno di questi poteva portare il cartellino giallo e magari avrebbe dovuto cambiare il modo di impostare la partita quindi è stato favorito un po' dall'arbitro però ha giocato bene e l'espulsione secondo me non è un errore cioè è una valutazione intelligente di un calciatore che ha cercato di fare il fallo meno plateale possibile perché l'ha fatto in caduta non è che ha fatto la tirata di maglia o la falciata ha fatto un fallo il meno plateale possibile quando ha visto che poco non c'era possibilità di recuperare il calciatore quindi è un fallo intelligente è un cartellino rosa in espulsione sì ma furba quindi per me è da 6 e mezzo Ien da 6 e mezzo anche Magnani che è protagonista di quel salvataggio sul tiro di Zalewski che forse Montipò avrebbe parato ma siamo sempre nel mondo delle ipotesi mentre invece è una certezza se tu lo devi in calcio d'angolo che il gol non lo prendi è stato un grande salvataggio in difesa diciamo è stato quello un po' meno sicuro dei tre però prestazione comunque buona 6 e mezzo per Magnani Terracciano allora Terracciano propizia l'errore di 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 Ruipatricio ma non è che sia un grande merito lì Ruipatricio fa una zotta clamorosa lì sulla fascia diciamo che regge abbastanza bene Zalewski gli dà noia perché gli sfila alle spalle spesso quindi una buona partita di Terracciano che è un ottimo giocatore a me piace molto 6 più per lui dall'altra parte Doig non mi è piaciuto molto vi dico la verità a parte che contro Christensen ha sofferto nel primo tempo lo ha perso anche un paio di volte davanti si è visto poco se non per quel tiro sbilenco su Assis Stifolo Runcio comunque era un tiro difficilissimo lui sempre tiri difficili capitano perché anche contro l'Empoli fu chiamata un tiro al volo molto scordinato cioè un tiro pulito a lui mai però una partita non positiva secondo me nemmeno terribile gli diamo 6 meno bene la coppia di Mediani allora per me migliore in campo è stato Ongla che è un giocatore che per me non è da Serie A ma ha fatto una partita clamorosa una partita da da Tamesi dei tempi d'oro ecco cioè una partita dove in fase difensiva è stato providenziale ha recuperato tanti palloni ha contrastato tanti calciatori anche sul rigore poi tolto dal VAR cioè lui che va a coprire l'inserimento di Pellegrini cioè onnipresente è stato ovunque ha recuperato tantissimi palloni e comunque in impostazione non è che li abbia persi non ha fatto grandi giocate ma non è nelle sue corde è anche consapevolezza dei propri limiti giocare semplice quando non hai capacità tecniche per alzare il livello di difficoltà delle giocate no? per cui partita veramente di alto livello per lui 7 più ed è il migliore in campo dell'Ellas stesso voto che però diamo a Duda perché comunque gol e assist per lui giocatore che a me vi dico la verità non convince molto come mediano perché secondo me ha caratteristiche più da trequartista da sottopunta tutta il più da mezzala alla Luisa Alberto per intenderci quello è un pochino il ruolo che vedo in Duda però ha fatto una bella partita da mediano comunque anche dal punto di vista del rendimento difensivo no assolutamente imparagonabile con Ungla che è stato un combattente clamoroso un gladiatore al centrocampo però Duda il suo contributo l'ha dato ovviamente molto più ridotto però l'ha dato si sta calando in questo ruolo può essere una sorpresa di questa stagione a me sorprenderebbe se Duda dovesse ambientarsi in questo ruolo quindi però la prestazione è da 7 più anche per i gol e l'assist che hanno deciso la partita Foloruncio allora Foloruncio ha giocato meglio da centrocampista quando è uscito Duda piuttosto che da sottopunta secondo me ha grande forza fisica non lo sposti non lo sposti quindi quando sulle palle arte sulle seconde palle sui palloni sporchi è devastante e deve pulire un pochino il suo modo di giocare cioè gli ho visto fare tante giocate sporche gli ho visto fare tante giocate che potevano essere risolutive se fossero state più precise ho visto un giocatore un po' un po' disordinato ecco nelle fasi di possesso però utile in fasi non possesso ecco paradossalmente con gli stessi giocatori secondo me sarebbe meglio Foloruncio mediano e Duda sottopunta cioè nel 3-4-2-1 nei due di mediana Foloruncio e Ongla con Duda invece sottopunta al fianco di Ngonge secondo me renderebbero meglio entrambi però è un'opinione ovviamente mia che 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 vale quanto i due di pic quando briscola il cuore comunque per me è una prestazione da 6 qualche alto e qualche basso Ngonge allora Ngonge fa il gol è un gol che esalta le sue caratteristiche di contropiedista un po' come era successo anche nella partita contro lo Spezia non è un gol simile anche se arriva dall'altra parte del campo contro lo Spezia però il concetto è il solito però è l'unica cosa bella che fa in partita oltre all'apertura per Terracciano indubbiamente in occasione dell'1-0 però una partita condita con tanti errori tecnici tanti passaggi fuori misura a me Ngonge non è piaciuto come ha giocato però bisogna rendergli merito del gol che ha indirizzato in maniera forte la partita quindi gli do 6 e mezzo Dürich lo voto come peggiore in campo semplicemente perché non è riuscito a fare il gioco che fa di solito di sponda di difesa del pallone di far salire la squadra di dar fastidio ai difensori avversari per aprire spazi per i compagni è un giocatore che il gol ne fa pochi fa pochi anche assist però dà parecchia noia alle difese avversarie è utile ieri non lo è stato secondo me quindi gli do 5 e mezzo del peggiore in campo dell'Ellas subentrati a Serdar diamo un 6 di incoraggiamento ha giocato una mezzoretta e ha fatto vedere un buon spirito di sacrificio poca qualità palla al piede ma la partita si era indirizzata nel sacrificio totale quindi non è che potesse farsi vedere molto in fase di possesso 6 per lui Faraoni non mi è piaciuto molto un po' disorientato in fase difensiva davanti ha fatto cose un po' troppo complicate come quando ha provato a fare il cross al volo di Trivela cioè cose esagerate sicuramente diamogli un 6 meno non mi è piaciuto come è entrato in campo a Bonazzoli diamo un 6 insomma ha conquistato un paio di calci di punizione molto utili perché hanno fatto rifiatare e perdere tempo alla squadra però niente di eccezionale senza voto Saponara e Mboulat che hanno toccato pochi palloni meglio Mboulat come ingresso in campo rispetto a Saponara però mi fermo a dare un 6 voto all'allenatore può sembrare un controsenso perché batti la Roma però è un 6 più perché la squadra non è stata messa male in campo ok però la vittoria arriva per episodi fortuiti cioè papera del portiere traverse della Roma cioè se la partita se la distribuzione della fortuna fosse stata più equilibrata probabilmente sarebbe finita 3 a 1 per la Roma e avrebbe avuto 5 su tutti i giornali perché il Verona non ha giocato bene in fase di possesso intendo non è mai riuscito a trovare Diuric sia Folloruncio che Ingonge in fase offensiva si sono visti pochissimo quindi la partita non è esaltante però ribadisco i giocatori offensivi ancora mancano cioè Lazovic non c'è Saponara non è al 100% Bonazzoli neanche e rientrerà prima o poi in Henrique secondo me può essere una risorsa utile cioè è davanti è normale avere difficoltà a tutte le attenuanti del caso però è un'altra partita dove comunque il Verona ha sofferto tanto gli do 6 più perché la partita non è stata impostata male però ai punti l'avrebbe persa voti alla Roma quindi partiamo dal portiere portiere che è il peggio nel campo ovviamente della Roma 4 e mezzo perché la papera sul gol è incommentabile cioè iniziare la partita e fare una stronzata del genere è una roba veramente inguardabile tra l'altro è un portiere che non è mai stato bravo però di esperienza ne ha tanta quindi un errore proprio anche di concezione cercare una giocata rischiosa con la partita iniziata da 3 minuti cioè ma cosa stai facendo rischi di di stravolgere tutta la preparazione della partita veramente un errore inqualificabile di un portiere che lo dico senza peri sulla lingua a me fa cagare mi ha sempre fatto cagare anche prima che arrivasse da Roma mi sembra che in Serie A abbia mantenuto il trend di quelle che sono le mie opinioni sul giocatore 4 e mezzo peggiore in campo della Roma linea difensiva Mancini senza infamie senza lode da quella parte Verona ha attaccato meno che dall'altra difensivamente non ha rischiato nulla ha cercato anche un tiro da fuori area non particolarmente pericoloso però una partita sufficiente 6 per Mancini Smalling 5 pieno perché sbaglia in maniera grossolana la lettura sul goal di Ingonge e poi il modo in cui lo contrasta quindi la colpa è quasi interamente sua poi anche dell'allenatore che fa salire tutta la squadra a un minuto dalla fine del primo tempo è follia come è impostata la squadra però Smalling ci ha messo del suo perché se invece fa il passo avanti per un fuorigioco che non può esserci perché se ne è la metà campo avversaria tu accompagni la corsa di Ingonge arrivi prima e probabilmente lo fermi invece arrivi in ritardo arrivi stanco arrivi poco lucido annebbiato e poi lo contrasti male 5 per Smalling Llorente si è visto poco in fase di impostazione dove di solito lui è molto bravo gli diamo un 6 meno non è che sia particolarmente colpevole sulle azioni del Verona è stato sostituito poi per fare questo cambio drastico di giocatori diamogli un 6 meno Cristian se ne a me è piaciuto nel primo tempo poi è stato sostituito però secondo me aveva fatto bene aveva messo anche quella bella palla per Zalewski aveva tenuto bene le incursioni di Doig secondo me Cristian se non aveva giocato mai gli do 6 più Zalewski e Zalewski a cui spero insomma che non abbia nulla di grave penso sia soltanto un po' lo shock della botta non credo che abbia ripercussioni però per me è da 6 meno perché poca qualità al cross ha attaccato anche poco l'area di rigore tranne in quella circostanza del tiro deviato da Magnani 6 meno per Zalewski a centro campo Cristian è buona partita Cristian mi è piaciuto gli diamo un 6 e mezzo ha appartenato vicino al gol di testa è bravo in quel fondamentale lo era anche a Bergamo ma poi ha dato ordine alla squadra l'ho visto sempre sicuro nel possesso insomma una buona partita di Cristian bravo anche in fase interdizione buona partita è da 6 e mezzo Pellegrini fa i disfa nel senso fa giocate bellissime come quella in cui si libera di Magnani e Ian però calcia al lato la punizione è splendida insomma gli vedi fare cose veramente di alta classe però altre ci sono state un paio di circostanze dove poteva calciare dal limite posizione molto favorevole ha sbagliato lo stop insomma è una partita tra luci e ombre di Pellegrini quindi Poggio e Bua fa paro gli si da 6 Paredes a parte non capisco il senso di prenderlo per la Roma ma poi quello quando farò il video sul calcio mercato giudicherò la Roma per me sul mercato si è mossa a parte Indica che è stato un grande acquisto e a War che può essere utile il resto francamente sono tutte operazioni che mi lasciano molto perplesso Paredes è un giocatore che non mi è mai piaciuto che secondo me non sposta gli equilibri che costa tanto per quello che vale la partita è stata veramente brutta veramente brutta male in impostazione tanti palloni persi non ha mai usato la verticalizzazione uno schifo 5 per lui davanti Di Bala si è acceso a sprazzi ma non è riuscito a essere pericoloso come di solito riesce non è mai riuscito nemmeno a trovare la sua mattonella per calciare in porta e poi qualche fastidio muscolare l'ha fatto uscire dal campo 5 e mezzo Belotti il migliore in campo quello tanta grinta tanta foga quella che aveva il toro che lo aveva portato ad essere anche capitano propizia l'espulsione di Ien propizia il gol di Awar credendo su quel pallone rischiando il cazzotto sulla nuca e insomma l'ho visto bello bello in partita è da 7 meno ed è ed è il migliore in campo della Roma subentrati allora Spinazzola non entra male in partita sicuramente molto più incisivo di Zalewski sul cross nel dialogo esterno le triangolazioni l'ho visto meglio di Zalewski quindi 6 più per Spinazzola e Sharawi bene è entrato in partita è andato anche vicino al gol personale l'ho visto insomma puntare l'area di rigore con molta più convinzione di quanto non facessero i suoi compagni quindi un buon ingresso in campo 6 e mezzo per Sharawi 6 e mezzo anche per Awar che trova il gol che riapre la partita e gioca bene si mette bene attacca bene gli spazi anche quella quella palla mi sembra proprio di Sharawi dove lui arriva poi è bravo Foloruncio a rimontarlo però il tempo inserimento è ottimo insomma buon ingresso in campo anche il suo con dito dal gol quindi 6 e mezzo anche per Awar a Karzdorp diamo un 6 politico ha giocato tanto ha giocato un tempo intero perché è uscito Zalewski subito inizio ripresa però una partita diciamo non non esaltante ma nemmeno negativa insomma una partita da 6 stesso voto che do a Solbaken che è entrato al posto di Dybala anzi a Solbaken diamogli un 6 meno perché francamente si è visto poco un giocatore che ha tecnica che può fare sicuramente meglio anche dal punto di vista del cross della giocata del tiro da fuori insomma può fare sicuramente di più 6 meno per Solbaken voto a Mourinho 5 più 5 più perché la scelta di Paredes in campo è incommentabile perché il modo in cui posiziona la squadra a fine primo tempo per subire il gol del 2-0 è folle e perché non ha trovato soluzioni per scardinare la difesa su azione perché ai punti la Roma sicuramente non meritava di perdere anzi probabilmente meritava di vincere però affidarsi sempre solo a calci piazzati è un limite veramente grosso diventerebbe un potenziale un diciamo un punto di forza se si aggiunge alle qualità del gioco non se è l'unica carta che hai a disposizione a quel punto un limite importante quindi per me la prestazione è la Roma e quindi la sua guida tecnica sono da 5 più il mio video si conclude qua e io vi invito a scrivere nei commenti che cosa ne pensate di questa partita ci sono tanti tifosi del Verona che mi seguono e ho portato il post partita dell'Empoli ho portato anche questo quindi il Verona l'ho vista entrambe le partite francamente non è che mi abbia convinto più di tanto a livello di qualità del gioco c'erano tante critiche diciamo l'anno scorso nonostante la rimonta perché il Verona era brutto da vedere mi sembra che la cosa non sia cambiata al momento però ci sono tutte le attenuanti del caso di una squadra che è in costruzione anche antiere aperto tanti calciatori tecnicamente forti non sono disponibili o non sono al 100% quindi il vero Verona lo vedremo tra una ventina di giorni secondo me lì potremo valutare il lavoro di Baroni al momento Verona ha raccolto tanto senza senza fare grandi cose per cui è un grande inizio di stagione dal punto di vista della classifica e dei risultati scrivete nei commenti però cosa ne pensate soprattutto se siete in disaccordo con le mie valutazioni perché il confronto serve a tutti e arricchisce il contenuto sul mio canale noi ci vediamo come sempre prossimi video che saranno dedicati alle altre partite di questo weekend di serie A poi cercherò di mettermi in pari con il mercato del Verona devo ancora portare i video su Follow Run Show e devo portare il video anche su Serdar che è appena arrivato se non ci riesco la prossima settimana li porterò poi durante la sosta per le nazionali dove mi metterò in pari con tutti i colpi di mercato che ci sono nell'ultima settimana di mercato e sono tantissimi iscrivetevi al canale perché il feedback è più importante che vado a vedere se volete iscrivermi in privato vi lascio il link in descrizione del mio profilo Instagram e del mio profilo Telegram un carissimo saluto a tutti ai prossimi video ciao ciao